Dio non abbandona e prepara le nostre strade nonostante le debolezze umane, lo ha detto il Papa nell'Omelia. Quante volte il popolo di Dio si sente non benvoluto da quelli che devono dare testimonianza, dai cristiani, dai laici cristiani, dai preti, dai vescovi. Ma la povera gente non capisce niente, devono fare un corso di teologia per capire bene. Ma perché ho certa simpatia per quest'uomo? Perché nel cuore ancora aveva l'unzione, perché quando la donna le spiega la sua situazione, e lì gli dice vai in pace e il Dio di Israele ti concede a quello che gli hai chiesto. Viene fuori l'unzione sacerdotale, povero uomo, l'aveva nascosta dentro, la sua pigrizia, era un tepido. E poi finisce male, poveretto.